Ciao a tutti ragazzi, sono Flon e oggi sono in compagnia di un mio amico, Alessandro. Salve a tutti. Probabilmente già l'avete visto per altri video su Metin o altri giochi, si chiama Acnologia, però oggi siamo su FIFA 13 per provare a fare una partita, io con il mio team brasiliano e lui con il suo team inglese, sperando di evitare bug o tante fesserie che offre questo gioco, ecco, vediamo subito che già ho fatto un falso, però non va fischiato, ok, e possiamo iniziare, allora. Dai è Bento, ma no. Il suo giocatore più forte probabilmente è Bento, vabbè anche Lampard non è male, lo chiamiamo il dottor, ma cos'è? Lo chiamiamo il dottor Bento perché è qualcosa di preciso, precisamente squallido come giocatore perché va sempre col brutti, è vero? No. Invece il mio più forte sinceramente, ecco qui, ma ridiamo perché praticamente mi sta squillando il telefono a casa e quando squilla di solito salta sempre la connessione, però a quanto poi non è saltato, a posto. Allora, quando andiamo a giocare a questo magico gioco... Io non ne sarei così sicuro... Si è zitto dai portatori di Jella. Allora, io come vi ho detto la squadra... Ecco qui, fuori gioco nettissimo proprio... Io come vi ho detto la squadra del brasiliano, l'unico giocatore che non è brasiliano è un ganese, un pitroipa, che io chiamo eroe nazionale, probabilmente è anche il giocatore più forte della mia squadra, semplicemente perché è velocissimo. E se lo uso, lo farò vedere, dovrebbe essere quello. No, è Robigno, va bene. Ecco il pitroipa. Che sono queste tecniche illusorie, o a destra o a sinistra, cosa mi combina? Già sta, non volevo fare quello, ma comunque... Ah, attenzione, Lampard potrebbe fare o meno delle sue... Cagare. Ecco, mi è piaciuta, devo dire. Ecco, anche questo mi è piaciuto. Come regalare la palla all'avversario, no? Come dire, è un nabbo. Perché? Che gli ho rubato. Si segnava per un pro, ma non ha segnato. Quindi, io direi che Giorgio Enrique può fare un bel gollo effetto da lì. Che ne dice? Dico che è morto. No, ma guarda che l'ha piazzata esattamente dove voleva, senza che fa. Allora, aveva visto quel moscerino fuori dal campo, ho detto, ma a me non piacciono gli insetti. E l'ha colpito. Eh certo, mica qui mi dava alla porta. Questo è un tiro in bordo. Eh però, a lei è proprio falloso. Ma qui si vuole un rosso, ma no. Che giocatore preventivo. Vabbè, tanto muo è facile segnare. Appuntolo. E infatti, hai visto com'è stato bello questo gol, eh? Che scarsone. Ha un culo. L'ho fatto sbagliato, non ho capito, però. Attenzione, il dottor Bent. Fa un passaggio al profumo di cacca. Giorgio Enrique. Attenzione a Pato. Mamma mia. Ecco, ora va pure a toccare così, non mi dà neanche il calcio d'angolo. Ma dai, mi dà neanche il calcio d'angolo, se puoi nello sud. Infatti, i miei giocatori non si hanno segnato i test, è quel il problemino. Che non sono proprio progettati, però va bene, perché hanno disegnato in tanti altri modi. Ma no, mi ha zappato un giocatore, vergogna. Tu hai un giocatore. Ma smetti di comparsi gli albitri, una buona volta. Ma no, mi ha zappato un giocatore. Rovesciato a Bent, il dottor Bent non può segnare di rovesciato. È proprio... Tanto volte il rovesciato. Sia zitto. Però... Che cacca... Lampard, no. Si stava preparando al tiro dei tiri. Sì, il tiro della tigre. E poi le devo fare un capolavoro di corso, non sono contento. Una catafratta. Una catafratta tipo... Piaciuto. No. C'è un coglione? No, è un pro. Questo vuol dire essere pro. Tipo questi rinvii... Se magari la marcaste, sarebbe molto più divertente. Però... Anche lei ha piazzato su quella formica fuori dal campo. Ma c'è. Ottimo colpo di testa. Vabbè, direi che è anche il caso di attaccare un po', perché mi sto scorciando. Che visce? No. È... 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 È quello che mi trattiene. Ma che trattiene? È la protezione della palla. Sì, sì. È quello che stila. Ok. Ma come? Ma smetti di cercare i miei giocatori, possibilmente. Ah, io? Sì. Ma... Tutto solo. Secondo me dovrebbero riposizionare un po' la difesa in campo. Ma secondo me dovrebbero andare un po' a dormire. Che sono le... Che loro sono le... Sei e mezza. Ma che? Tardi, eh? Sì. Vabbè. Questa... Allora, nemmeno ho finito il primo tempo. Ma certo, è fallo mio. Ecco, ora quando stavo segnando il primo gol, vabbè. Ah, sì, sì. Vabbè, il primo tempo abbiamo... Abbiamo lasciato giocare l'Inghilterra, giusto perso, ma poi... Sembrava brutto, però... Chamberlain. Guarda lì, cittadina per Bento, che ovviamente non sfrutta. Merda. Ottimo. Ma perché... Guarda lì, cittadina per Bento, non si preoccupi. Guarda lì, che pro. Sì, infatti. Ma che... Cosa sono questi... L'avendo poco motivata. È che è un avversario vergognoso, no? Allora... Certo. Ma vedi? Guarda lì, che parata semplice per il portiere. Sì, infatti, ha dovuto prendere in due tempi. Andate a Vilduizzo, cosa non può fare contro Bento. Sì, vabbè, dai. Stangiamoci verso il recupero. Nabbo. Il dottor Bento, lo vede. Cosa vuole fare? Ecco qui, ecco. E però, eh. Ma mi hai trascinato un giocatore per tre metri. Ma poi ci vuole che il rosso diretto a metà squadra, questo fa. Ma sì, come? Questi lanci. Per Chamberlain. Che viene fermato e parte il contropiedo. Come dire? Ma è classe o... Non riesco a capire. È popù. No, è classe, è classe. Dico che è cacca, guarda. Ecco, è anche su, beh, questo è vero. Tanto si è comprato l'arbitro, quindi... E difesa impenetrabile. Infatti. Ma cosa vuole fare? Questi cross dal fondo. Madonna. Non so neanche perché ha passato al centro, poi, però. Da lì Chamberlain, come si brucia l'avversario e poi passa... Ma basta pure. Mi vergognerei, però. Ma... Ma... Come si sente a fare questi gol? Molto soddisfatto. Ah, eh, si vede che noi abbiamo la stessa concezione di gol di cacca. Perché... Vuoi dire? Guarda lì come si... Che proprio si mangia la difesa. Sì, infatti. Beh, direi che la scelta gioca abbastanza. E ora possiamo iniziare a recuperare. Allora... Come vede, il primo passaggio è quello più importante. Ma come dire, questi tre golupai che ha fatto, non sono un po' vergognosi? Ma come dire... Mi copia anche le sostanze, cioè, è proprio vergognoso. Ma reggiguita oppure le devo infiedire? Ma che devi infiedire, questi gol tutti uguali? Ma ecco... Ma devo iniziare a fare un po' di golli io. Che gli devo dire? Ecco, l'ha presa in panza per evitare il gol. Questo lag pure prima mentre di... Anche il passaggio è vergognoso. Non vergogna Duomo. Beh, direi che... Siamo al 75esimo, vale la pena iniziare a recuperare. Sennò poi non ripuro più. Ma certo. Questo è un po' rigore. Ma che no? Non si passa quando c'è Johnson, mi dispi. Sì. Ma... Ma ancora non si rassegna, vero? Guardatelo. Gerrard. No. Lampard. Perde palla. Potrebbe. Ma ovviamente no, perché io sono così fortunato che... Cioè, come dire? Ma quello Pato è un po' scarso. Ma non è questione di Pato. È questione di... Fortuna, sfortuna, avversario Nabbo. Capito? Cioè... Cazzo. Dici, mi sono gola al profumo di cacca. Questo è un gol fenomenale. L'effetto era così potente che il portino non è riuscito a fermare. Cioè, guarda là. Vedi? Continuava a girare corticosamente in porta. Cioè, guarda. Ma che gol? Questo compensa i tuoi quattro, direi. O no? Io direi di sì. Certo. No, ma secondo me sì, seriamente. Quindi siamo 4-4. Possiamo chiuderla qui. E il cambio è completamente versante. E la butta pure. E c'è un robinio selvatico che non riesce a prenderla. E mi sa che la partita è quasi finita. Come si sente da aver perso 4-1? No, ma io ero l'Inghilterra. Io sono l'Inghilterra. Ah. Non sono l'Inghilterra. No. Come no? Ok, questi cambiamenti. Come sempre ho usato l'Inghilterra. Mhm. Certo. Vabbè. E allora mi sono confuso. E non ci sono più scritti, anziché fare figuracce. Vada. A parte gli scherzi, ragazzi. Se il video vi è piaciuto. A me non è piaciuto perché ho perso. Però ci vediamo la prossima volta con la rivincita. Ciao a tutti ragazzi da Blue Moon e Alessandro. Ciao ciao.